Il mio papà è un top. Io amo il mio papà. Anzi, noi facciamo sempre, una volta all'anno, un viaggio con la nostra famiglia. Dovete farlo anche voi. Sempre. Viaggi con la famiglia. Top. Mio papà è un top d'uomo. Ricotta. Noi abbiamo un'azienda di ricotta. Io amo il mio papi. Eccomi. Mi hanno chiamato per lavoro. Adesso. Adesso? Sì. Devi andare a prendere le banane? Sì, invece. Lavori con le banane, produci banane. Buon viaggio. Mi hai detto che sono in piccione. In piccione? E certo, chiedi del mio papà. Ah, ti sei offeso? Fammi capire. Ciao, hamster. Maronna. Ti sei offeso? Non piangere. Non piangere. Non piangere. Ti favo anche molto angstio. Molto. Molto angstio. Molto angstio. Molto angstio. Ti sei offeso? Ti sei offeso? Non piangere. Non piangere. Mi dispiace che ti sei offeso. Un stolza papa. E che tu sei un po' per malosetto, bananone. TikTok spotless. Ma come me? Io non sono per malosa, ma va, figurati. Ma banana? Fammi capire. Vuoi essere chiamato bananina? Bananona? Come vuoi essere chiamato? Fammi capire. Perché banana... Tu mi chiamano... Mi chiamano Sandro. 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 E mo' che c'entra Sandro? No. Se tu mi chiami banana... Ti chiami Sandro? Eccola Sara. Ho detto perché si avvicina? Ho detto perché Sara si avvicina? E ho capito. Ok, quindi ti chiamo banana... Com'è che ti devo chiamare? Scusa, fammi capire. Banana fresco. Bananone? Bananone. Bananone? Bananone Sandrone. Top. Non mi piace. Bananone... Non patatone. Sandrone. Top. Bananone? Allora? Allora? Come rimaniamo? Come rimaniamo? Forza le banane. Sono piene di potassio. Bravo. Sono piene di potassio. Jeffrey Dama. TikTok Sportlich. TikTok Sportlich. Che cosa vuol dire su TikTok Sportlich? Significa TikTok Sportivo. Un po' d'acqua, poca, 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 acqua. Che senso un po' d'acqua, poca, poca, acqua? C'è una piccola bottiglia d'acqua. Ciao Jeffrey Dama, come stai? Vuoi mangiare banana? TikTok Sportlich. Grazie. Ciao Jeffrey. Quanto è il giusto per te? Fammi capire. Non lo so. Non lo so. Ma non ci prendo l'insegnante. Ma roca, devo un bello lavoro. Quanto tempo puoi spiegare con me? Quanto tempo? Ma dipende. Lessons number one is really easy. Cioè, dipende. Dobbiamo vedere il tuo livello d'inglese, come sta messo. I numeri li sai? Zero. Non sai proprio nulla. E allora devi sgancià. E allora sgancia, che cavolo. Sgancia. Ah, ok. Quindi iniziamo proprio da capo. dai numeri, I am, queste cose le sai il verbo essere. No? Ok. Va bene, va bene. What? Ti insegno io l'inglese. Ma perché vuoi imparare l'inglese? Eh, serve? Ti serve per le banane, vero? Per le banane serve l'inglese. È vero. È vero. È vero. C'hai ragione, c'hai. Perché? Perché devi vendere le banane. Eh? Devi venire con me. Dove devo venire con te? A prendere le banane? A fare il tramite. A fare il tramite? Quindi dovrei lavorare come traduttrice. GP4 is Circ. Per le banane. Se thickness a Self Engine,